Nuova serata ricca di ospiti alla Magna Grecia Award nella tappa spin-off di Palagiano, la forza delle donne e le eccellenze del Made in Italy, appassionanti storie d'amore e di amicizia, sono state al centro della serata della Kermes ideata dallo scrittore e regista Fabio Salvatore. Sulla Sagrato della Chiesa Santa Maria Annunziata si è svolto l'incontro con il noto scrittore, regista e sceneggiatore Federico Moccia, l'autore di Tre Metri Sopra il Cielo, Scusa ma ti chiamo amore e ho voglia di te, ha dialogato con Fabio Salvatore, ripercorrendo la sua carriera e analizzando come le giovani generazioni siano cambiate nel tempo e nell'emergenza Covid. A premiare Moccia è il cerimoniere del Magna Grecia Award, Tiziana Gentile. Tante volte i ragazzi soprattutto sono troppo incollati al telefonino e con lo sguardo sullo schermo non vedono tutto quello di bello che c'è intorno. Oggi come oggi forse tutta questa situazione ci fa apprezzare ancora di più anche le cose più semplici, la libertà che noi pensavamo dovuta, assoluta, totale e che in realtà attraverso questa situazione noi non abbiamo più. Ancora i libri protagonisti con il racconto presentato da Luisa Corna e il suo libro di favole Tofu e la magia dell'arcobaleno, un libro per i più piccoli che parla anche delle difficoltà e delle disuguaglianze. È una fiaba, una fiaba dedicata ai più piccoli, diciamo, ai bambini delle scuole primarie. È una fiaba che è contro tutto quello che è l'indiscriminazione a favore della diversità e della bellezza della diversità. Ha fatto gli onori di casa il sindaco di Palagiano, Domiziano Lasigna. Noi come comunità, io come sindaco sono davvero onorato di offrire alla nostra comunità questa occasione, che è un'occasione di incontro, di confronto, di ripartenza rispetto ai tempi vissuti. Poi c'è stato anche un momento dedicato al racconto delle donne come eccellenza nel lavoro e la loro esperienza a tutela di un settore prezioso. Mangia italiano, preserviamo il Made in Italy. A confronto Veronica Barbati, delegato nazionale col diretti Giovane Impresa, Floriana Fenizza, responsabile nazionale di Donne Impresa col diretti e Michele Peragine, giornalista RAI, specializzato nella cronaca del settore. La ventitresima edizione del Magna Grecia Award, dedicato a Nadia Toffa, è stato patrocinato da Mibact, Regione Puglia, Puglia Promozione, Teatro Pubblico Pugliese, provincia di Taranto, comune di Massafra e comune di Palagiano.